Ciao a tutti amici, io sono AleborGamer e vi do benvenuto sul mio canale. Quest'oggi vi insegnerò a giocare ad un titolo storico, che ormai ha compiuto 10 anni in questo 2022 ed è stato ristampato per l'ennesima volta da Asmodee, grazie all'incessante richiesta di tutti i suoi fan. Oggi vi insegnerò a giocare a Seasons, un titolo di carte, drafting e dadi per 2-4 giocatori della durata indicativa di circa 50-60 minuti per partita. Ma prima di partire con il tutorial vi ricordo brevemente che questo video è stato sponsorizzato da Blasone Shop. Se volete acquistare anche voi la vostra copia di Seasons, potete farlo cliccando nel link che trovate in descrizione. Inoltre potrete usufruire del 15% di sconto utilizzando il mio codice sconto esclusivo che trovate proprio qui sulle destra. Insomma, che dire di Seasons? Se a 10 anni dalla sua uscita riesce ancora ad emozionare milioni di giocatori, motivo ci sarà. Per chi ancora non lo conoscesse, Seasons è un gioco di carte e dadi, famoso per la sua infinita avvaliabilità. Noi saremo dei maghi e dovremo sfruttare al massimo le nostre 9 carte che avremo a disposizione. Ma insomma, non perdiamo tempo in altre chiacchiere, andiamo subito a vedere come si gioca a Sua Mestà Seasons. Ed eccoci qua allora a vedere come si gioca a Seasons. Prepariamo velocemente una partita. Piazziamo al centro del tavolo il tabellone delle stagioni. Prendiamo i segnalini neri, li piazziamo sull'uno del primo anno e sull'uno della prima stagione, ovvero l'inverno. Prendiamo il tabellone dei cristalli, lo piazziamo di fianco a quello delle stagioni. Questo rappresenta i cristalli e poi a fine partita i punti vittoria. Ogni giocatore dopo aver scelto il proprio colore piazzerà un segnalino sullo 0 di partenza e un segnalino sulle centinaia. Poi prendiamo in base al numero di giocatori i dadi delle stagioni. Ipotizzando una partita a due giocatori prendiamo tre dadi per ogni colore. Creiamo una riserva di energie che poi sarebbero le risorse. Poi ogni giocatore sempre con il colore scelto prende il suo tabelloncino, la plancetta di gioco e piazza gli altri due segnalini del proprio colore, uno sullo 0 dei poteri speciali e poi sull'uno del grado di invocazione. Il grado di invocazione come vedremo ci dice il numero di carte che possiamo giocare. In questo caso iniziando con l'uno significa che potremo giocare all'inizio solo una carta. Adesso andiamo a vedere la distribuzione delle carte perché questa è molto particolare. Allora, innanzitutto cominciamo col dire che all'interno della scatola troverete 100 carte. Le carte sono numerate da 1 a 50, vedete in questo caso è la numero 28 di 50 ed ogni carta è disponibile in duplice copia. Il setup delle carte, come detto, prevede tre difficoltà. Per le prime partite o comunque per i giocatori che non hanno esperienza con Seasons il gioco ci propone 4 set di carte prestabilite. Quindi se voi giocate per la prima volta e non avete esperienza potete seguire questo consiglio. Quindi prendere un set di carte, 1, 2, 7, 17 e così via, il 2, il 3 e il quarto set. In questo caso non effettuate nessun drafting, cioè non vi scambiate le carte di inizio partita ma utilizzate un set fisso. Quando avete preso un po' più di esperienza possiamo andare a fare il drafting. Il primo step per il drafting è utilizzare le carte dall'1 al 30 che sono le carte un po' più semplici. In questo caso come facciamo? Ad ogni giocatore vengono date 9 carte. I giocatori guardano le carte che hanno ricevuto. Un drafting che cos'è? Il giocatore sceglie una carta, la mette coperta e la passa al giocatore di destra. Il giocatore riceverà a sua volta le carte dal giocatore alla sua sinistra, sceglierà un'altra carta e così via finché tutti i giocatori non hanno scelto 9 carte. Queste 9 carte rappresentano la mano dei giocatori per tutta la partita. Infine abbiamo il terzo livello, quello avanzato, che è quello che consiglio per godersi a pieno seasons e godersi la sua variabilità praticamente quasi infinita, in cui noi facciamo sempre il drafting di 9 carte ma usiamo le carte dall'1 al 50. Quindi usiamo tutto il mazzo completo. Quindi una volta che tutti i giocatori hanno ricevuto le loro 9 carte per la partita andiamo a mischiare tutte le altre carte restanti andando a formare un mazzo di pesca. Durante la partita noi non utilizzeremo solo queste 9 carte ma avremo la possibilità di pescarne di nuove tramite i dadi o tramite le abilità delle carte stesse. Ma prima di iniziare la partita tutti i giocatori ora devono compiere delle scelte. In cosa consistono queste scelte? Devono dividere le 9 carte che hanno appena ricevuto in 3 mazzi diversi. Perché? 3 carte verranno utilizzate all'inizio della partita. Durante la partita noi andremo a far avanzare il contatore delle stagioni, sul cerchio delle stagioni, nel momento in cui il segnalino nero sconfina di nuovo in inverno passiamo dal primo al secondo anno. Che cosa succede? Noi dobbiamo scegliere sempre ad inizio partita 3 carte che entreranno in gioco non appena scocca il secondo anno. Altre 3 carte verranno prese dal giocatore quando arriverà il momento del terzo anno. Ora che i giocatori sono rimasti con le 3 carte iniziali in mano possiamo andare a cominciare la partita. Un turno di gioco in seasons si svolge in questo preciso ordine. Il primo giocatore del turno dovrà prendere i dadi legati alla stagione quindi in questo caso siamo in inverno quindi lanciamo i dadi blu e li va a lanciare. A partire poi dal giocatore che ha lanciato i dadi ognuno dovrà fare queste azioni scegliere un dado compiere gli effetti e le azioni del dado e poi può giocare volendo delle carte potere dalla mano pagandone i requisiti può giocarne una o più e poi attivare i vari effetti ed abilità delle carte in gioco. Il gioco procede in senso orario quindi il giocatore alla sinistra sceglierà anche su un dado e svolgerà le proprie azioni e poi avanzerà un dado considerate che qualsiasi sia il numero di giocatori al tavolo avanzerà sempre un dado questo dado è importante perché vedete che ci sono dei pallini questi pallini rappresentano gli spazi che il segnalino nero delle stagioni dovrà percorrere in questo caso essendo avanzato un dado con tre pallini il segnalino avanzerà di tre pallini questo spostamento è molto importante primo perché permette al segnalino di andare avanti di far cambiare l'anno e di far entrare in gioco carte nuove ma attenzione perché il gioco termina nel momento in cui finisce il terzo anno ed ora che abbiamo capito la struttura generale di un turno di gioco andiamo a vedere nel dettaglio le varie fasi cominciando dai dadi la prima fase è lanciare i dadi e andare a selezionarne uno in senso orario andiamo a vedere quindi come sono fatti questi dadi e che cosa ci offrono come detto quando noi andiamo a selezionare un dado dobbiamo eseguirne subito le azioni con i dadi noi possiamo ottenere energie possiamo ottenere cristalli over a punti vittoria possiamo pescare delle carte extra possiamo aumentare il nostro livello di invocazione e possiamo cristallizzare le nostre energie teniamo conto di questo durante le nostre stagioni noi abbiamo possibilità diverse di ottenere delle risorse quindi delle energie in base alla stagione che noi stiamo affrontando ad esempio se noi siamo in inverno e tiriamo i dadi blu avremo molte probabilità di trovare acqua e vento un po' meno fuoco e praticamente nulla di terra invece ad esempio se noi andiamo in estate abbiamo alte probabilità di prendere fuoco e terra un po' meno l'acqua e praticamente zero di vento ma facciamo degli esempi per andare a capire meglio questo funzionamento che in realtà è veramente semplice facciamo finta che io prendo questo dado questo dado mi fa ottenere due energie acqua e un punto, un cristallo in questo caso il cristallo lo vado ad aggiungere al tracciato le due risorse acqua le prendo da qui prendo due risorse e le piazzo nei primi due posti vuoti della mia plancia un altro turno io vado a prendere queste prendo due risorse erba che le metto sempre qui in questi spazi in più ho una stella la stella mi permette di aumentare il grado di invocazione come detto il grado di invocazione corrisponde al numero di carte che posso giocare decido di scegliere questo dado qui che semplicemente mi dà sei cristalli quindi avanzo di sei sul tracciato dei cristalli decido di prendere questo dado qui questo dado mi permette di pescare una carta quindi io pesco la prima carta del mazzo e la guardo io posso decidere di tenere o meno questa carta se mi garba me la posso tenere in mano se no mi garba la posso scartare voi direte ma perché l'ho pescata la tengo sì attenzione perché alla fine del gioco per ogni carta che noi avanziamo nella nostra mano abbiamo un malus di 5 punti durante la partita decido di prendere questo dado qui questo dado mi permette di ottenere un'energia fuoco e un'energia di terra però attenzione perché io ho già sei energie nella mia plancia e non ne posso ottenere più di 7 quindi in questo caso cosa faccio? io devo decidere tra tutte quelle che ho in questo caso tutte 8 qual'energia scartare quindi io decido ad esempio di scartare un'acqua per tenere le due energie che ho appena preso grazie al dado in più questo dado ha questo cerchio questo vuol dire che in questo turno io posso decidere di cristallizzare delle mie energie ma che cosa vuol dire? l'azione di cristallizzazione ci permette semplicemente di scartare delle energie in nostro possesso per ottenere dei cristalli ma attenzione che i cristalli che noi possiamo ottenere variano in base alla stagione in corso ad esempio noi siamo in inverno se io scarto un'acqua o un vento ottengo un cristallo quindi ipotizziamo che io decido di fare così la metto in riserva e ottengo un cristallo scartare invece una risorsa fuoco in inverno mi dà due cristalli scartare una risorsa terra in inverno me ne dà tre quindi noi siamo in inverno decido di cristallizzare una terra e un fuoco e ottengo cinque cristalli vi ricordo che è possibile cristallizzare tutte le energie che sono in nostro possesso ma facciamo un attimo un veloce zoom sulla plancia giocatore per andare a scoprire che cosa sono queste icone queste rappresentano delle azioni speciali che noi possiamo compiere durante la partita possiamo compiere al massimo queste azioni per tre volte con il malus di perdere dei punti a fine partita quindi se noi utilizziamo solo un'azione alla fine della partita perderemo cinque cristalli farne due ne perderemo dodici farne tre ne perderemo venti non è consentito farne più di tre le azioni speciali in tutto sono quattro noi possiamo farle tutte nello stesso turno possiamo farle distribuite in più turni possiamo fare sempre la stessa o farne di diverse questa azione speciale ci permette di scambiare due energie qualsiasi con altre due energie qualsiasi questa azione ci permette di cristallizzare le energie nel nostro turno nel momento in cui magari noi prendiamo un dado che non ha il cerchio quindi non ci permette di cristallizzare ed in più cristallizzare le energie in questo modo ci permette di ottenere sempre un cristallo in più per ogni energia che andiamo a cristallizzare questa azione ci permette semplicemente di aumentare di un punto il nostro grado di invocazione questa azione invece possiamo eseguirla solo nel momento in cui prendiamo questo dado normalmente con questa azione possiamo pescare una carta decidere di tenerla o meno invece quando noi utilizziamo questo dado possiamo decidere di utilizzare anche questa azione speciale cosa ci permette di fare? ci permette di pescare due carte una la teniamo in mano e l'altra la andiamo a scartare dopo aver eseguito l'azione del dado un giocatore può, se vuole, giocare uno a più carte potere ovviamente andiamo sempre a controllare che il nostro livello di invocazione ci permetta di giocare delle carte potere fatto ciò allora possiamo andare a pensare di giocare delle carte come sono formate queste carte? sono semplicissimi in alto a sinistra abbiamo i punti che la carta ci fornisce alla fine della partita abbiamo il nome, abbiamo il disegno qui abbiamo il costo quello che vedete sotto il disegno è il costo che dobbiamo pagare per poter giocare la carta sotto il costo abbiamo il tipo di abilità quindi c'è la descrizione di quello che la carta ci può far fare sotto ancora abbiamo questi simboli vedete? 1, 2 e 3 questi simboli rappresentano il momento in cui la carta ci permette di utilizzare l'abilità facciamo un esempio voglio giocare la statua benedetta di Olaf mi costa 3 risorse acqua quindi cosa faccio io? vado a pagare alla riserva 3 risorse 1, 2 e 3 questa carta ha un effetto immediato quando c'è la freccia così in basso un effetto immediato io la gioco, la carta mi dà immediatamente 20 cristalli che io vado ad aggiungere sul mio tracciato proseguiamo voglio giocare il vaso dimenticato di Yang questa carta mi dà 6 punti a fine partita la pago una risorsa acqua, una fuoco e una terra e mi dà un'abilità continuativa permanente cioè quando finché questa carta è in gioco ogni volta che io gioco una carta potere cioè una qualsiasi di queste carte ricevo un'energia andiamo adesso a vedere la carta di Kairn il distruttore che ci propone un'icona ad ingranaggio ciò vuol dire che l'effetto è un'attivazione quando io ho questa carta in gioco posso attivarla durante il mio turno facendo quello che c'è scritto sopra ad esempio questa carta mi dice che io posso scartare un'energia per far perdere ad ogni avversario in gioco 4 cristalle attenzione che per giocare le carte potere non sempre dobbiamo pagare con le energie a volte dobbiamo pagare con i cristalli per giocare in aria la profetessa non dobbiamo spendere delle risorse bensì dei punti cristallo quindi per giocare la carta dobbiamo indetreggiare di 3 spazi sul tracciato dei cristalli altra eccezione è questa carta qui ad esempio Figrim Lavaro noi dobbiamo pagarla con i cristalli ma ha un costo in base al numero dei giocatori se ad esempio giochiamo in 2 mettere giù questa carta ci costerà 3 cristalli piccola precisazione sulle carte tutte sono carte potere ma come potete vedere abbiamo due sfondi diversi uno viola e uno arancione le carte con lo sfondo viola sono degli oggetti magici mentre le carte con lo sfondo arancione rappresentano dei famigli una volta che tutti i giocatori hanno scelto il loro dado come detto ne rimarrà uno solo facciamo quindi avanzare il segnalino sul tracciato delle stagioni in questo caso di 3 spazi il giocatore che per ultimo ha preso il dado stagione diventerà il primo giocatore nel turno successivo e nel momento in cui termina il terzo e ultimo anno la partita a termine immediatamente ed è arrivato così il momento di andare a conteggiare il punteggio finale ai cristalli già ottenuti durante la partita i giocatori dovranno aggiungere tutti i punti ottenuti grazie alle carte punti che forniscono le carte per eventuali abilità ed andare a sottrarre punti per eventuali abilità speciali utilizzate e 5 punti per ogni carta rimasta in mano il giocatore che avrà conquistato il maggior numero di punti vittoria verrà decretato il vincitore in caso di parità vincerà il giocatore che avrà giocato più carte e potere nel proprio spazio di gioco in caso di ulteriore parità i giocatori condivideranno la vittoria e con questo siamo giunti al termine del tutorial di Seasons un gioco di carte per 2-4 giocatori della durata indicativa di circa 50-60 minuti per partita vi ricordo che questo video è stato sponsorizzato da Blasone Shop se volete acquistare la vostra copia di Seasons potete farlo cliccando nel link in descrizione e potete acquistarlo con il 15% di sconto sfruttando il mio codice sconto esclusivo che trovate qui sulla destra io vi ringrazio per avermi seguito vi ricordo che se volete supportare tutti i miei lavori potete mettere un bel like e un commento a questo video ed iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per non perdere le prossime novità vi ringrazio nuovamente ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti